Andiamo ad Alba Triatica, abbiamo raggiunto l'obiettivo che tempo fa ci eravamo prefissati, quello poi iniziò stagione. Poi i trascorsi di questa stagione, tutto quello che poi c'è accaduto, abbiamo avuto molti momenti in cui sembrava difficile, momenti in cui venivamo dati per morti, momenti in cui era impossibile. Invece abbiamo raggiunto, penso anche meritando, nell'arco dei 100 minuti, nell'arco delle due partite, la mia squadra ha meritato. La mia squadra ha messo in capo due prestazioni maiuscole, abbiamo sbagliato un tempo in due partite e lo abbiamo pagato. Andrea Tubani ci tiene in partita con un gol dei suoi, perché al primo tempo la squadra ha giocato veramente male, avevamo paura. Siamo venuti qua non per difenderci, stavamo facendo tutto l'opposto di quello che ci eravamo detti. Però ci siamo, ora andiamo ad affrontare una grandissima squadra.